Sono 58, secondo dati diffusi dall'azienda di trasporti milanese, i dipendenti aggrediti nei primi nove mesi di quest'anno. E poi ci sono le aggressioni verbali, gli sputi, gli insulti quotidiani senza nessun motivo. Una violenza che dopo la pandemia è persino peggiorata. È un fenomeno che è diffuso in tutto il paese ed è un fenomeno che noi non possiamo accettare. Questo non può diventare normalità. Certo ci dispiace attivare un'azione di sciopero per tutti i lavoratori pendolari, ma abbiamo purtroppo altra soluzione. Abbiamo bisogno che tutto il sistema risponda, risponda compatto a un'emergenza di questo tipo. Che rispondano le istituzioni, le forze dell'ordine, le aziende e anche noi per quanto possa competere al sindacato. Un'azione coordinata che ci permetta di essere più concreti e trovare delle soluzioni idonee. Noi questa situazione non la possiamo più accettare. Una situazione idonea, chiedono i sindacati, che prevederebbe però un presidio stabile sulle 113 stazioni della metropolitana milanese e sulle linee di superficie più a rischio. Ma questo richiederebbe almeno un centinaio di agenti. E se non si vuole mettere mano alle casse del comune assumendo vigilantesi privati, l'unica alternativa è un distaccamento dalle forze di polizia. Quando succede dovrebbe essere un intervento immediato, dovrebbero esserci più pattuglie che girano, eccetera. Come si sente quando si mette sulla divisa per andare al lavoro? Ma a me piace la divisa, la porto con orgoglio. Io mi sento bene, però mi guardo sempre alle spalle, è quello sicuro, perché ormai bisogna far così. Non bisogna distrarsi mai, guardare sempre in giro e cercare di avere la massima attenzione quando si svolge il proprio lavoro. Io sono più di vent'anni che faccio questo lavoro e ultimamente, da quando è successa la pandemia, proprio si sta elevando al massimo questa cosa, quindi non va bene. Anche sabato sera è stata aggredita una mia collega, un ispettore della Sosta, così senza alcun motivo, quindi per le donne ancora peggio sicuramente, ma comunque per tutti i lavori ATM, anche per quelli della Security, che comunque ogni giorno e ogni qualvolta vengono aggrediti. Infatti sabato sera quattro della Security, un ispettore e poi due del mezzanino. Una violenza che spesso rimane impunita. Il 22enne, che sabato sera è aggredito con calcio e pugni due addetti alla sicurezza, già al mattino era stato fermato dalle forze dell'ordine per un'altra aggressione e poi rilasciato. Una situazione che non è più accettabile. Ecco perché l'adesione allo sciopero dell'11 ottobre, il terzo in meno di quattro mesi legato al tema della sicurezza, è stata così alta, attorno all'80%. Oggi lo sciopero è andato bene, perché la gente l'ha sentito più di un contratto nazionale. Io non ho mai un'adesione così, non l'ho mai negli ultimi vent'anni, non l'avevo ancora visto. L'aggressione che ci sono, sono quasi all'ordine del giorno. E non si fa niente, viene aggredito così, solo perché gli chiede magari un bel dito che ti aggrediscono. Noi chiediamo più sicurezza per tutti i lavoratori che svolgono il loro lavoro in ATM, perché essendo in front line siamo tutti i giorni in strada a svolgere il nostro lavoro. Abbiamo bisogno di più tutele per essere tranquilli e per svolgere la nostra mansione con serenità.